Siamo tornati Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video Sono Cricinant23 Ed oggi siamo ragazzi con un nuovo video Su un bel gioco Molto rilassante Su getting in goverit Io ho fatto continua e mi ho lasciato qua Io quasi quasi mi scarico le hack Faccio il checkpoint e vado alla fine Se ragazzi mi arrendo certe volte Cioè non avete idea di quanto mi nervosisco Certe volte ma non avete idea Ne posso fare anche nuova partita Tanto non cambia niente Allora no raga allora dobbiamo andare avanti Ho fatto continua e mi ho fatto continuare Da là sotto perché il video è finito Benissimo Ho messo e fa col video Dai abbiamo preso un po' la mano Non cadere dall'altra parte Allora 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 Non fare due versi grazie Raga L'infarto qua ci sono E che cavolo Sempre la stessa cosa E che cavolo Io vorrei mettere una Endgame Mousegame Per capire Cosa sto facendo Allora Fa il bravo E fa il bravo Dove cacchio si incastrata? Ok 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 Piano Non c'è fretta Ok No Non ti spingere sotto Allora le lanterne Prendiamo Le lanterne Tanto non ti sento Quindi puoi parlare Quanto vuoi Dai Grazie Senza canzone E mail Già mi fa in cavolo Come ca... Ma è fisica sta cosa raga Vabbè Ok Allora Tutto no Siccome c'è stato col mouse Faccio cadere cose L'altra volta per sistemare cose Cosa abbiamo Cosa è successo? Che alla fine ho finito il video E così No no Non ne ho capito Non ne ho capito Sali 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 E porca miseria E' proprio una sensazione Stranissima raga Perché arriva un input lag Che lo fa apposta L'ha fatto apposta A fare questo input lag Cioè io sono stato fermo Lo è volato Però quando devi saltare Non salti Quando voglio io In queste condizioni Non lo saprero mai Siamo all'inizio All'inizio non proprio Però Ancora manca a metà Siamo E' sempre la stessa cosa Siamo a mezz'ora Raga Mezz'ora di rec Per non fare niente Per non concludere Della mia vita Niente Cioè quando sono fermo Salta Ora salto Cioè raga Vedete Vola Quando non voglio Ok siamo in pendenza Oh però calmati Ma è scemo Ma è scemo Ma forte Raga mi vado a fare una camomilla Aspettate No raga 6 minuti A non concludere Niente Raga scusate Sono piccoli contrattempi qua Allora Già mi fai nervosire il gioco Oggi ci mette anche il telefono Raga questo video è da buttare Questo video è da buttare Basta E sali E che ci vuole Raga è pazzesco È pazzesco È pazzesco Un video da buttare E sali E sali Brava Vai Piano Non ti sto facendo Ma raga sto muovendo pianissimo Il mouse Niente Bola Ti ho fatto un minimo movimento Raga Ma è anche scriptato Sto gioco Raga Boh Raga mi arrendo Basta Non ci faccio più Continua Oh Dove siamo Dove siamo Oh Non ho preso un salvataggio da internet L'ho caricato No Ok Ma dove neanche stiamo andando Buio Aspetta Mi do la spinta Raga Buio Pesto Oh Stiamo muovendo solo raga Ah ecco è finito Si muove solo Cioè io Metti un alto E abbasso Vabbè Bennett Foddy Vabbè Ma l'ho completato tutto Ma con tutte le mie forze Raga Non avevo voglia neanche di fare Primo livello Cioè Raga Non riuscivo a superare il primo livello Ma di cosa stiamo parlando Niente Ora se ne va nell'iperspazio E Ciao Scrivete un salvataggio da internet Ho messo Save Game Il 100% L'ho caricato E sti cavoli Raga Sto gioco Non riesco a superarlo Perché Il Bennett Foddy Ha messo un input lag Dove io Perdo la testa Per completare almeno Un pezzetto di gioco Che comunque Eravamo all'inizio Raga Tutta sta gente Si è messo a fare Sto gioco Perso Io proprio lo ringrazio Bennett Foddy Per avermi fatto Incavolare seriamente Cioè io ho completato GTA C'erano più titoli di coda La Però comunque E ora Non registrerò Lo streamerò Per spoilerare Il regalo Agli altri Klimber No sto registrando Mette il tuo nome Giovanni Cosa è sta roba Raga cosa è sta roba È una chat Dove stiamo a parlare Tutti quelli che abbiamo finito Il gioco E l'ho Giovanni Bella raga Bella raga Vabbè C'erano tutti quelli Che insultano Il creatore Veramente C'erano tutti quelli Che insultano Bennett Foddy Quit Ah Ah no New game C'è alla fine C'è una chat Dove possiamo Chattare tutti Quelli che abbiamo finito Il gioco Vabbè col salvataggio Con save game Tutti possono entrare Perché raga È stressante Un gioco del genere Rage game Comunque Non farò più video Del genere Ora lo disinstallo Direttamente Lo disinstallo La steam Niente ragazzi Noi ci vediamo Un prossimo video E trotto pochissimo Sto video Sarà l'ultimo video Di getting over it Il secondo E ultimo Una serie Proprio grandissima Di questo gioco Ma che Un video dove Comincio a giocarci Per la prima volta E non concludo niente E poi il secondo video Dove metto un save game Un salvataggio E concludo del gioco così Boh Un expected Una chat Mai in un gioco C'è stata una cosa del genere Comunque Niente ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo video Iscrivetevi Lasciate like E noi ci vediamo Al prossimo video E ciao ciao Ciao